Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme i panzerotti, dei deliziosi calzoncini di pasta lievitata ripieni di pomodoro e mozzarella. È possibile cuocere i panzerotti in forno oppure friggerli. Io ho scelto l'opzione più goduriosa, la frittura. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti di condividere le mie videoricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera! Per preparare l'impasto dei panzerotti abbiamo bisogno di 500 g di farina zero con 12 g di proteine, 330 g di acqua, 5 g di lievito di birra fresco, 20 g di olio extravergine di oliva e 8 g di sale. Iniziamo a sciogliere il lievito in acqua. Ora versiamo acqua e lievito nella sciatola della farina. Cominciamo a impastare con un cucchiaio di legno. Versiamo l'olio. E il sale. Come l'impasto vedete ha raccolto tutta la farina sul fondo. lo possiamo coprire e lo lasciamo rilassare per 20 minuti. Dopo il breve riposo lavoriamo il nostro impasto sul piano di lavoro. Infariniamo il piano. Ci versiamo questo impasto completamente rustico. E cominciamo a lavorarlo. 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 Ecco, 5 minuti esatti. Logicamente io sto lavorando così a mano, ma potrete scegliere di lavorare anche in planetaria. Pronto per andare in ciotola a lievitare per un'ora. Dopo un'ora, questo è il risultato del nostro impasto. Ora dobbiamo versarlo sul piano di lavoro. Lo allunghiamo, chiedendolo. Ora ritagliamo dei panetti. Adesso chiudiamo così i panetti, ripirliamo, facciamo delle palline e mettiamo queste palline su un vassoio leggermente spolverato di farina. Una volta che le palline sono pronte, copriamo il vassoio con un panno morbido e pulito e le lasciamo lievitare per 30 minuti. Durante l'ultima fase di lievitazione ho tagliato a cubetti la mozzarella e ho condito la passata di pomodori datterini. Io ho messo sale, olio extravergine di oliva e origano. I nostri panetti hanno raddoppiato di volume e adesso iniziamo a stenderli. Ok. 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 metto un pochino di passata di pomodoro. e la mozzarella. Chiudo e sigillo. vado a ritagliare un pochino di pasta in eccesso. e il primo dei nostri panzerotti è pronto. Ne prepariamo un pochino e iniziamo la frittura. vedete l'olio fa le bollicine intorno allo stecchino quindi vuol dire che è arrivato a temperatura. iniziamo la frittura. E'ercizio. e'ercizio. siamo arrivati a un punto di cottura perfetta vedete la doratura ora li scolo in una ciotola con carta assorbente i nostri panzerotti sono pronti per essere gustati adesso ne apriamo uno questi sono i primi che ho fritto quindi sono meno bollenti degli altri eccoli qui vedete è una pasta magnifica e sono davvero gustosi bene anche per oggi è tutto io spero che i miei panzerotti fritti siano stati di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti a condividere le mie video ricette con i vostri amici e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video un grande abbraccio a tutti voi da Rita